Sono Raptix, oggi vi presento questo nuovo arrivo Mercedes classe C Station Vagon 2200 di cilindrata a 170 cavalli, qui in allestimento sport. Sulla parte anteriore troviamo subito praticissimi sensori di parcheggio, abbiamo cerchi in lega da 17 e la cromatura che abbraccia i costalli. Spostandoci sul retro ritroviamo i sensori di parcheggio per le nostre manovre e per quanto riguarda invece il bagagliaio abbiamo un sacco di spazio, il doppio fondo e con questi praticissimi tasti possiamo abbattere le sedute davanti. Spostandoci all'interno della cromatura abbiamo un sacco di spazio con questi comodissimi sedili in tessuto con il doppio attacco Isofix e troviamo anche le bocchettine dell'aria. Troviamo questo praticissimo touchpad screen per gestire tutto l'infotainment. Subito sotto abbiamo la gestione del clima e questo praticissimo vano portoggetti con la ricarica a 12V. Subito sotto troviamo la gestione dell'infotainment e un altro spaziosissimo vano portoggetti. Il volante è in ecopelle e da questi comodi tasti riusciamo a gestire le chiamate mentre qui sotto abbiamo una levetta per gestire il cruise control. I cristalli sia davanti che dietro sono elettrici. L'auto è alimentazione diesel ed è stata immatricolata nel settembre del 2017. Trovate queste e moltissime altre auto sul nostro sito ratix.com Grazie a tutti.